cari amici cari amiche buonasera plf modulo di localizzazione del passeggero passenger locator form che cos'è che cos'è questo qua lo dobbiamo presentare quando siamo all'estero prima di poter rientrare nel nostro paese molti non lo sanno molti possono trovarsi in situazioni non simpatiche e per questo ho deciso di portare a conoscenza delle persone di questo modulo che va assolutamente compilato e presentato al check in all'estero prima di poter rientrare come leggiamo dal sito salute.gov.it nel portale troverete appunto questo questo modulo e la compilazione è obbligatoria assolutamente dall'ordinanza del 16 aprile 21 e riguarda tutti i passeggeri in arrivo in arrivo in italia attraverso qualsiasi mezzo di trasporto quindi va compilato andiamo subito e ci colleghiamo andiamo nel sito indicato dal link dove queste sono le nazioni le varie caratteristiche oltre ad avere il green pass per poter viaggiare o qualcuno prevede il green pass da tampone quindi questo è l'altro modello come si fa andiamo benvenuti nel modulo la destinazione finale si continua come si arriva queste sono le varie tipologie noi mettiamo con l'aereo ok vogliamo accettare ma abbiamo anche la possibilità di metterlo in italiano e quindi facciamo una bella cosa lo mettiamo in italiano prima di iniziare perfetto dichiaro di compilare il modulo in maniera completa corretta e veritera ma certamente prima che qualcuno ci viene a cercare abbiamo letto l'informativa ma certamente facciamo il log non possiamo fare il log se non siamo però registrati quindi dobbiamo registrarci con una mail una password dopo di che arriverà una mail di conferma nella nostra casellina la validiamo dopo di che possiamo entrare successivamente io già allora io ho fatto la log precedentemente quindi non ho fatto altro che inserire la mia user la mia password entrato dentro prima di iniziare si dichiara che la combinazione viene fatta in maniera veritiera si va avanti e si inserisce le tipologie del volo se è un volo diretto un volo indiretto la nome della compagnia per esempio facciamo un gioco sognare se abbiamo magari un jet privato lo segniamo numero del volo magari numero del posto pilota i paesi visitati precedentemente cioè dove siamo stati se siamo stati qui dice se nei 14 giorni precedenti torriva i soggiornati in un paese non di transito diverso da quello indicato come indirizzo permanente quindi diciamo diverso dall'italia se siete residenti in italia dichiaralo qui indicando il paese di provenienza facciamo un esempio ipotizziamo che siamo andati ma che dire in a ruba a ruba perfetto e siamo partiti siamo partiti dall dall'angola poi mettiamo la data d'imbarco ora utilizziamo che sia oggi l'orario alle due ok la e all'aeroporto d'imbarco e ora l'angola non so non so che dire la data d'imbarco facciamo ci mette due giorni dai era tantissimo ci mette tanto ok e la decisione finale mettiamo al ghero dai andiamo andiamo al gher continuiamo le varie informazioni personali per esempio il sesso altro mettiamo altro via la data di nascita 2000 sto giocando sto inserendo dei dati a caso una carta di identità giusto per compilare e far vedere cosa potrebbe accadere un numero di telefono un altro numero ma questo togliamo la nostra mail e andiamo avanti l'indirizzi non si usa un indirizzo temporaneo vediamo un po' no ci dobbiamo insomma inserire un po' tutto mettiamo un pochino sto sto inserendo qualsiasi cosa giusto per andare avanti capo ancora mettiamo 666 via road number one numero uno appartamento uno continuo poi ci dice dove volete andare abitazione attenzione se nei prossimi 14 giorni non alloggerai non alloggerai devi indicare dove però noi non ce ne fai niente quindi andiamo avanti no c'è dobbiamo inserire i contatti se vi sentite male chiamate mi chiamate sarò ben lieto di aiutarvi inizio chanello paese diciamo tutti i campi opzionali opzionali continuiamo la dichiarazione dichiaro sotto la mia responsabilità non ho minori non ho minori se avete dei fini minori dovete compilare anche questo in questo caso non ce l'ho ok va bene ha inviato grazie per aver inviato una mail di conferma il modo di inviato del tuo documento per favore porta il documento plf con te quando viaggio in formato elettronico o cartaceo vediamo un attimino se riesco ad averlo nell'account così magari lo tolgo essendo un po' diciamo con dati che lasciano il tempo che trovano eccolo qui lo vediamo qui è stato creato vizio chanello il documento la data d'arrivo la tipologia il paese e diamo le azioni se lo vediamo eccolo qua questo qua lo possiamo scaricare in formato pdf scusate questo è il codice qr dopodiché lo presentiamo ragazzi senza questo non non vi fanno partire quindi lo dovete assolutamente assolutamente fare quindi preoccupiamoci di cancellare questa richiesta qua ma cancelliamo sì benissimo e quindi ragazzi ricordatevi il passenger locator form digitale che è fondamentale ciao a tutti 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 ciao a tutti